2, 1, 2, sinistra 3 no, 30, sinistra 3 no ancora, 50, e sinistra 3 no ancora, 100 sconnessi, buca, attenzione, attenzione buca, in destra 3, 2 tempi e rail gira, destra 3, 2 tempi e rail gira, rail gira, subito sinistra 2 no, subito sinistra 2 no, 2 no, e destra 2 no, e c'è no sinistro, 100 a vista, 100 a vista, rail destra e sinistra 2, rail, qua destra e sinistra 2, subito, destra 3, Destra 3, e ai gersi, tornante a destro, destra 3, ai gersi, tornante a destro, e sinistra 2, e destra 2 no, 2 no, in sinistra 2, e destra 2 no, subito sinistra 2 buca, 2 buca, 30, destra 2, 2 questa, in sinistra 3 lunga, e rail destra e sinistra 2, rail destra e sinistra 2 qua 30 destra 3 no 3 no in sinistra 4 chiude 3 sinistra 4 chiude 3 chiude 3 chiude 3 30 sinistra 3 no stringe destra 4 sale stringe destra 4 sale e la casa destra 2 2 tempi chiude rail chiude 100 rail sinistra 2 rail sinistra 2 e accenno destro subito sinistra 2 gira subito sinistra 2 gira questa e stai a sinistra destra 3 lunga 2 tempi destra 3 lunga 2 tempi 3 lunga 2 tempi in sinistra 3 sfiora in sinistra 3 sfiora 3 sfiora questa 100 al cartello destra 4 cartello destra 4 e stacca rail sinistra 2 Stacca sinistra 2 Per destra 2 Subito sinistra 2 70 Alla casa destra 3 Dai che andiamo In sinistra 3 30 Destra 3 gira 3 gira questa In sinistra 3 gira 3 gira 50 Destra 2 2 2 2 bene bene dai Destra 2 questa E destra 3 gira Subito tornante sinistro Destra 3 gira Subito tornante sinistro E tornante destro E destra 3 gira 3 gira 3 gira Stai a destra Al ponte sinistra 2 Al ponte sinistra 2 E acceno destra Acceno sinistra Al palo sinistra 3 2 tempi Al palo sinistra 3 2 tempi 1 e 2 e stringe destra e sinistra 50 per la casa destra 3 in sinistra 3 sinistra 3 200 a vista via andare 200 a vista accenno destro al cartello sinistra 4 subito destra 3 al cartello sinistra 4 subito destra 3 e sinistra 3 3 e destra e sinistra 4 e destra 4 lunga sfiora 4 lunga sfiora questa 20 sinistra 3 gira 3 gira questa bene così ponte destra 3 gira 3 gira questa subito sinistra 2 3 gira subito sinistra 2 sinistra 2 eccola qua per destra 2 destra 2 e sinistra 2 sta interno sta interno e destra 3 lunga chiude 3 lunga chiude questa 50 lunga chiude e sinistra 2 gira 2 gira questa qua per destra 2 subito sinistra 2 gira destra 2 subito sinistra 2 gira 2 gira questa 2 gira questa destra 3 lunga 2 tempi su ponte destra 3 lunga 2 tempi su ponte 70 70 destra 3 3 questa per sinistra 2 gira 2 gira per destra 2 50 destra 2 questa 50 destra 3 lunga 3 lunga subito sinistra 2 destra 3 lunga subito sinistra 2 2 questa 150 destra 4 in sinistra 4 lunga 4 lunga questa al cartello stacca sinistra 3 gira al cartello stacca sinistra 3 gira 3 gira e c'è uno sinistro sfiora 100, meglio dai, c'è uno sinistro sfiora 100, a rovescio, destra 3, destra 3 e dopo tornante destro, destra 3 e dopo tornante destro, eccolo qua, e destra 4, e tornante sinistro, destra 4, e tornante sinistro, tornante sinistro, 200. 100, a rovescio, destra 3, diventa 2, destra 3, diventa 2, 3, qua diventa 2, in sinistra 3, 3 questa, e la zebra, destra 3, in sinistra 4, destra 3, in sinistra 4 sfiora, sinistra 4 sfiora, e rail, sinistra 3, 3, questa qua per, destra 4 vai, 200, 4 vai, 200, tieni, 4 vai, 200, tieni, a rovescio stacca, e la zebra tornante destro, tornante destro, 150, e sinistra 4 vai, tieni, 150, 4 vai, tieni, 150, e la zebra tornante sinistro, tornante sinistro, e destra 4 vai, tieni, e stai a sinistra, destra 4 lunga, stai a sinistra, destra 4 lunga, 30, sinistra e destra 2, 30, sinistra e destra 2, 100, via andare, via andare, via andare, la zebra a destra 3, zebra a destra 3, 3 questa, in accenno sinistro lungo, 70 fine, vai buona, si Manuel, bravo Manuel, bravissimo Manuel, bravo, 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 bravo Grazie.